In questa puntata di Red Hot Cyber vorrei parlarvi di due scienziati, due grandi innovatori, i cui nomi sfuggono quasi sempre a molte persone che si occupano di tecnologia e di informatica. Non sono riportati nei libri di storia delle superiori, ma il loro contributo è stato così fondamentale per l'informatica moderna che dal loro lavoro si è evoluta tutta la tecnologia del mondo nel quale stiamo vivendo oggi. Ideatori di due grandissimi hack, quali il sistema operativo Unix e il linguaggio di programmazione C, Oggi parleremo di Dennis Ritchie e Ken Thompson. Dennis Ritchie e Ken Thompson sono entrambi scienziati ed informatici americani, pionieri dell'informatica affascinati dalla logica e dalla programmazione, che li portarono dopo il conseguimento delle loro lauree, rispettivamente alla Harvard, gli universi e a Berkeley, presso i laboratori Bells. Ritchie, a causa di un fallimento di un progetto, iniziò a lavorare a stretto contatto con Ken Thompson e quindi allo sviluppo di un sistema operativo più flessibile per minicomputer, per il PDP-7 della Digital Equipment Corporation, la famosa DEC. Ritchie disse che iniziai a lavorare nel 1969 con Ken Thompson, quando scoprì un computer PDP-7 poco utilizzato e decise di creare un ambiente informatico che gli facesse davvero. Thompson scrisse la prima versione del sistema operativo Unix per un PDP-7 in appena un mese. Il suo lavoro mi attrasse così tanto, quindi da subito, che mi sono unito all'impresa, anche se la maggior parte delle idee e la maggior parte del lavoro per questa materia era totalmente il suo. Ma in pochi mesi i due avevano creato assieme un sistema operativo funzionante, il sistema operativo Unix, non legato a nessun particolare hardware per computer come erano i sistemi operativi precedenti. In concomitanza con lo sviluppo di Unix, Ritchie contribuì alla creazione del linguaggio di programmazione B nel 1970. Ma nel 1971, nel porting su Unix per PDP-11, di più recente costruzione, le carenze del linguaggio B iniziano a farsi sentire, tanto che Ritchie iniziò a lavorare per estendere il linguaggio di programmazione, in modo che l'anno successivo, il 1972, venne creato il linguaggio C. Sempre un anno dopo, nel 1973, Ritchie e Thompson riscrissero completamente il sistema operativo Unix, in C, e Ritchie scrisse due libri fondamentali per l'informatica, o meglio due Bibbie dell'informatica, ovvero Unix Programmers Manual del 1971, con Brian Kernighan, e The Sea Programming Language del 1978. Ricevettero entrambi tantissime oreficenze per il lavoro svolto, ma soprattutto il premio Turing del 1983. Mentre Ritchie si ritirò nel 2007, dopo la sua esperienza in Lucent Technology Thompson, una volta in pensione iniziò nel 2006 un percorso con Google, dove ha coinventato il linguaggio di programmazione Go. Concludendo, Ritchie e Thompson hanno creato il DNA sul quale si basa tutta la tecnologia che utilizziamo. Il kernel Linux è scritto in C, i videogiochi sono scritti in C++, i browser sono scritti in C, le infrastrutture su cui gira tutta quanta internet sono scritte in C. Ma aggiungo ancora, i server web sono scritti in C, e se non lo sono, sono scritti in Java o in C++, che sono derivati comunque dal C, o Python e Ruby, che sono a loro volta sviluppati in C. Quando Ritchie morì il 12 ottobre del 2011 non ne parlò nessun telegiornale, perché il mondo era travolto dal dolore dalla morte di Steve Jobs, avvenuta sette giorni prima. I tributi per Dennis Ritchie non corrisposero al fiume di Lodi che si riversarono sul web dopo la morte di Jobs, perché l'uomo è sempre ammaliato dalla superficie, dalle cose belle, senza mai sforzarsi di guardare il fondo. Red Hot Cyber è un canale che parla di sicurezza informatica e di tecnologia, ed è presente su LinkedIn, Facebook, Telegram ed Instagram. Iscrivetevi in modo di rimanere sempre al corrente delle pubblicazioni giornaliere. Potete inoltre guardare altri interessanti video proposti nel canale YouTube, e mi raccomando, cliccate in basso per iscrivervi al canale, sulla campanella in alto per rimanere sempre aggiornati sulle pubblicazioni che verranno effettuate. Red Hot Cyber, conosci il rischio per starne lontano. Arrivederci!